Bene signori, buonasera a tutti, davvero grazie per questa partecipazione nutritissima, grazie a San Benedetto del Tronto per l'accoglienza calorosa a tutti noi a Confindustria, è sempre un piacere ritrovarsi per l'assemblea annuale e voglio ricordare come già è stato detto che due anni fa Confindustria Scolipiciano e Fermo si sono unite, hanno deciso di unirsi e far nascere Confindustria Centro Adriatico per essere più forti, per essere più incisivi, per essere soprattutto più vicini alle necessità delle nostre aziende che ovviamente hanno soprattutto in questi anni tanto bisogno di supporto e di vicinanza. Direi una battuta, nonostante lo scetticismo che da parte di alcuni sia fuori dell'associazione ma qualcuno anche all'interno dimostrava, Centro Adriatico ha al contrario dimostrato di essere un luogo di convivenza, non certo un luogo di convenienza, scusate il gioco di parole, ma un luogo in cui abbiamo condiviso risorse, abbiamo condiviso strategie, obiettivi, abbiamo messo al centro lo spirito autentico del fare squadra per il bene delle imprese, per il bene della comunità, in estrema sintesi per il bene di tutto il nostro territorio. È nata dal matrimonio di oltre 800 imprese, Barbara, siamo diventati oltre 800, abbiamo superato ormai anche questo risultato e questo risultato lo dobbiamo al contributo di tutti voi presenti qui in sala, di tutti i nostri associati, al supporto determinante che è stato dato dal vicepresidente Gian Pietro Melchiorri che oggi non è con noi, è all'estero e che saluto e vi saluta e ovviamente contributo importantissimo anche dai nostri funzionari dell'associazione senza i quali tutti voi associati e funzionari non avremmo raggiunto questo importantissimo obiettivo. Oggi il centro adriatico è una realtà viva, vivace, che brilla di luce propria, dinamica, autorevole nella rappresentanza, efficace nei servizi che offre. Con questa fiera consapevolezza il mio primo saluto va proprio al nostro carissimo presidente Vincenzo Boccia che saluto e che ringrazio ancora una volta per la sua vicinanza. Vincenzo in una fase così delicata per la vita economica e sociale del paese la tua presenza non è soltanto importante ma la tua presenza rinvigorisce i nostri animi e in qualche modo come una bussola ci orienta verso le sfide che ci attendono. Con affetto saluto i colleghi presidenti di Confindustria Presidente regionale Claudio Schiavoni, Mauro Papalini, Gianluca Pesarini con cui costantemente condividiamo la rotta a livello regionale e la volontà di essere parte di una Confindustria sempre più forte, sempre più coesa. Con gratitudine e deferenza il mio saluto a tutte le istituzioni civili, militari, agli amministratori numerosissimi presenti avrei l'elenco ma sono grazie talmente tanti che evito di nominare tutti uno per uno. Grazie davvero perché essere qui ed essere tanti ci dà ottimismo. Ottimismo perché solo se faremo fronte comune, solo se lavoreremo uniti alle problematiche, alle sfide che questo territorio ci offre, potremo progettare una regione migliore per noi e per i nostri figli. Un grazie sentito e sincero al Presidente Gino Sabatini che ha tentato in ogni modo di farmi emozionare nella sua apertura, sempre attento alle nostre esigenze, sempre vicino alle battaglie delle imprese e che di battaglie ne ha vinte ha raggiunto un obiettivo importantissimo di cui tutti noi siamo orgogliosi a livello nazionale. Infine permettetemi poi di rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i relatori che si susseguiranno nel pomeriggio e last but not least alla grazia e alla maestria con cui Barbara Capponi oggi modererà i lavori della nostra Assemblea. Ma ecco, entriamo nel vivo, andiamo al punto. Oggi dalla manifattura al turismo, dal settore terziario all'agricoltura hanno successo e fanno business le imprese che non si accontentano più di produrre e commercializzare, ma riescono in qualche modo a raccontarsi, a dialogare con il mercato, ad entrare nel cuore dei consumatori clienti in qualche modo trasmettendo la propria identità e quella del proprio territorio. Nel mondo si parla di brand, per noi italiani si parla di marca, sono sinonimi. Che cos'è la marca, che cos'è il brand? In qualche modo è l'insieme delle qualità intangibili di un prodotto, quali ad esempio il logo, il design, la storia, la reputazione, la notorietà, tutto ciò che il prodotto stesso rappresenta in termini valoriali. Ecco, tutto questo è diventato oggi un fattore competitivo fondamentale per avere successo nei mercati mondiali. Oggi un'impresa di successo è in grado attraverso il brand di stabilire un feeling, di creare un'alchimia positiva con il mercato, comunicando emozioni, suscitando empatie, condividendo valori. E allora ne siamo consapevoli, siamo praticamente immersi in quella che si definisce un'economia della relazione nella quale tutte le imprese, tutte le nostre imprese oggi sono chiamate ad essere autentiche, trasparenti, responsabili e sostenibili. È di questi mesi chiaramente la grande attenzione, ormai di questi anni anzi direi, ai temi della responsabilità sociale e della sostenibilità. In questo nuovo mondo la crescita passa necessariamente attraverso la valorizzazione della marca. La marca è fondamentale per differenziarsi, lo ricordava anche il nostro presidente Ceriscioli dai competitor. È indispensabile per farsi conoscere da una domanda sempre più matura, è essenziale per fidelizzare i consumatori. E allora direi che si scrive brand, si traduce marca, si legge business. Più forte è il brand, maggiore l'influenza sui clienti, migliori sono le performance delle aziende. Non mi stupisce affatto quindi che il brand sia oggi un potentissimo catalizzatore della crescita economica. Negli ultimi dieci anni il valore dei 100 maggiori brand a livello globale è aumentato di oltre il 50%, esattamente del 54%. È interessante da questo punto di vista notare quali sono le tre caratteristiche che accomunano i brand di maggiore successo al mondo. Il primo, mettono sempre al centro il consumatore, il consumatore o cliente. Fondamentale questo per le nostre imprese, dobbiamo costantemente pensare che la nostra offerta è un'offerta mirata al nostro consumatore e questo è un punto che va davvero tenuto in grande considerazione. Due, usano la tecnologia e la usano per creare esperienze a valore aggiunto. Oggi abbiamo una grande opportunità che è quella appunto del digitale e le nostre imprese da questo punto di vista tanto possono fare per crescere e per diventare davvero forti nel raccontare e nel trasmettere esperienze di valore. Tre, e in questo siamo imbattibili, sono capaci di una grande flessibilità strategica e organizzativa e questa flessibilità permette alle imprese di adattarsi, di modificarsi, di adattarsi alle difficoltà e ai differenti contesti competitivi. E inoltre dovrebbe farci riflettere un dato interessante, la crescita a doppia cifra del valore del brand made in Italy. Prima anche su questo c'è stato un passaggio. Questo è quanto emerge proprio dalla classifica Brands 2019 dove, secondo la quale, i primari brand italiani sono cresciuti del 14% in termini di valore soltanto negli ultimi 12 mesi. Una politica di brand può portare a questi importanti risultati. Quindi se fare bene un prodotto, offrire un servizio oggi non è più sufficiente, non è più sufficiente per assicurare la sopravvivenza, per garantire lo sviluppo. E allora ecco ci domandiamo che cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare come imprese per andare in questa direzione. Abbiamo provato a sintetizzare alcune semplici regole. Anzitutto chiariamo subito che parlare di marca non vuol dire parlare di marchio. La marca corrisponde all'essenza concettuale, all'anima mi verrebbe da dire, l'anima che si insinua nella mente delle persone quando pensano a quella marca. Il marchio invece è semplicemente il dispositivo visivo che rende fisica una marca. Fanno parte del marchio, il logo ovviamente, i colori aziendali, il nome. Un brand vale più di mille prodotti. Perché dico questo? Perché un brand rappresenta quell'immaginario che durerà per sempre. Ma i prodotti cambiano, cambiano in continuazione. In questi anni cambiano ancora più velocemente. Il brand no. Il brand ha bisogno di tempo, ha bisogno di stratificarsi, ha bisogno di rimanere costante e crescere nel tempo. Il brand deve avere la capacità di emozionare il proprio pubblico e deve essere sempre coerente. Ecco il tema della coerenza è veramente un mantra se si vuole fare brand, se si vuole fare politica di marca. Infine il brand deve avere il nome giusto e un logo efficace. Meglio se breve e facile da pronunciare, ma soprattutto è importante che il brand abbia quindi un carisma. Non tutti i brand sono brand, non tutti i marchi lo sono altrettanto. In ultimo, molto importante per le nostre aziende, penso in particolare al settore calzaturiero e della moda, il brand va protetto legalmente. Ad oggi non è possibile registrare e depositare una marca, cioè la personalità che si vuole presidiare a livello psicologico, ma possiamo perlomeno tutelare quelli che sono i nostri marchi. Signore e signori, parlare di marca, di strategie di sviluppo delle aziende è ovviamente oggi in questa sala un assist straordinario per parlare però al tempo stesso della più grande sfida che accomuna le nostre imprese e il sistema paese. La sfida è la necessità di crescere. solo la crescita può garantire più lavoro per tutto il nostro paese e per questo territorio. Lo ripeto ancora una volta, la crescita è la più grande sfida che le nostre imprese e il nostro paese devono affrontare. I dati di oggi che Barbara ricordava in apertura ci dimostrano come le proiezioni di oggi del PIL per i prossimi due anni sono a crescita praticamente piatta zero. E quindi non dico questo solo perché purtroppo la nostra economia fa segnare numeri da calma piatta, ma soprattutto è anche per quella pericolosa atmosfera anti-impresa che sembra a volte essersi impadronita delle piazze e delle stanze dei bottoni. C'è una scuola di pensiero ostile all'Italia che produce e che lavora e che ha formato nel tempo numerosi, troppi adepti, detrattori, diciamo noi, irresponsabili del fare e del decidere, a volte praticanti ortodossi della mala burocrazia. Prima il Presidente Ceriscioli ha fatto un passaggio importante e io su questo voglio tornare. La modalità con la quale lo Stato ha impostato la ricostruzione nei nostri territori è figlia della acquiescenza all'immobilismo. Basti pensare che a distanza di tre anni, probabilmente, uso il condizionale, siamo forse all'alba della nomina del quarto commissario per la ricostruzione. Ebbene, la nomina del quarto commissario straordinario mi fa tanto pensare al romanzo Il Gatto Pardo, che festeggia quest'anno 60 anni dalla sua pubblicazione, che nel suo messaggio più forte raccontava, la filosofia era sostanzialmente questa, che cambi tutto affinché non si cambi nulla. Ecco, è arrivato invece il momento davvero, per tutti noi e per questo Paese, di voltare pagina. È ora di dire basta, basta a questa predisposizione all'inviluppo, è ora di dire basta ai comportamenti deleteri che ho ricordato, comportamenti deleteri e inviluppo che danneggiano oggi gli imprenditori, ma penalizzano un istante dopo i lavoratori e allontanano gli investitori da questo Paese. E Vincenzo voglio ringraziarti davvero perché su questi temi sei stato da sempre durante il tuo mandato portavoce forte, hai lanciato questo grido di cambiamento e su questi temi ti sei sempre battuto. E allora consentitemi perché se condividiamo e ci diamo come obiettivo la crescita non saranno certamente gli aumenti dell'IVA o le carte geografiche del pianeta nelle aule, oggi al telegiornale ho appreso questa importante notizia, a salvarci dal destino che le agenzie di rating hanno pronosticato per noi. Noi abbiamo invece una grande certezza da questo punto di vista. La crescita dell'Italia e la crescita in Italia passa necessariamente attraverso la riscoperta e la valorizzazione del vero brand di questo Paese. Qual è? È la nostra industria, è la nostra manifattura, è la nostra impresa, è il nostro tessuto imprenditoriale di piccole, medie e grandi imprese. E allora oggi più che mai queste imprese, le imprese italiane, hanno bisogno di misure concrete che accrescano la fiducia e che rappresentino davvero una svolta per tutti noi. Uno, è indispensabile, torno ai temi di apertura del Presidente, è indispensabile riaprire i cantieri sbloccando molto spesso risorse già disponibili. È urgente, urgentissimo ridurre i tempi biblici della giustizia civile che purtroppo ostacolano e mortificano l'attrattività di questo Paese. Qualche anno fa, ricordo che i dati parlavano di circa 900 giorni per arrivare a un primo giudizio civile in Italia. È improcrastinabile una trasformazione profonda della pubblica amministrazione che semplifichi la vita dei cittadini e delle imprese. Ma dirò di più, parlare di crescita passa attraverso anche un altro aspetto, un aspetto di carattere culturale. La crescita passa anche attraverso la nascita di una coscienza collettiva che risvegli l'indolenza di tanta pubblica amministrazione, che recuperi i valori insiti in ogni impresa. Passione, tenacia, coraggio, merito, visione, senso di appartenenza. Sono tutte queste precondizioni essenziali per intraprendere per qualsiasi progresso e per la cui diffusione tutti, tutti noi in questa sala, ma tutti si devono impegnare. A partire in particolare dai cuori pulsanti di questo Paese, che a mio parere sono le famiglie, la scuola e l'università. E allora questi sono valori che dovremmo tutti ricordare a casa, nelle nostre case, nelle nostre scuole, nelle nostre università. E a questo proposito, ad esempio, considero miope e scellerata la decisione del precedente governo di depotenziare l'alternanza scuola-lavoro. Una metodologia tesa a favorire la contaminazione virtuosa tra le nostre fabbriche e i nostri giovani, tra i talenti di oggi e quelli di domani. Non finisco qui, c'è bisogno dell'altro. È necessaria un'area nuova anche negli algi di palazzi di Bruxelles, ai quali chiediamo una maggiore vicinanza ai problemi reali delle nostre imprese. Un'Unione Europea che tuteli maggiormente le nostre marche. Le nostre aziende, la cui competitività, se qualcuno non lo sa, è costantemente minacciata da paesi palesemente contraffattori che costringono le nostre imprese, tanti amici del settore calzaturiero mi hanno riportato queste tragiche esperienze, li costringono a estenuanti battaglie legali e di fatto rendono difficilissimo il commercio. Credo che molti di voi abbiano avuto questo tipo di esperienze. Fermo e Ascoli sono unite da tante cose, sono unite purtroppo anche dal dramma del sisma e allora a questo proposito chiedono all'Europa quattro provvedimenti dedicati al rilancio economico e sociale. Quattro proposte per le quali ci batteremo senza sosta con l'auspicio che il nuovo governo e il nuovo commissario agli affari economici Paolo Gentiloni possa aiutarci a traguardare questi importanti obiettivi. Il primo è l'inserimento di tutti i comuni di Ascoli Piceno e Fermo nella carta degli aiuti a finalità regionale 2021-2027. 2. L'innalzamento, l'abbiamo già detto in altre occasioni, a 500.000 euro della soglia De Minimis che oggi è a 200.000 euro. Questa è un'iniziativa mirata in maniera particolare assoluta alle piccole, piccolissime imprese che oggi avrebbero un bisogno disperato di questo tipo di deroga. L'introduzione del cosiddetto obbligo di etichettatura d'origine, made in, di cui abbiamo parlato e parleremo anche dopo. Grazie. E parlando anche di un tema caro all'area ascolana, chiediamo ancora una volta il riconoscimento dell'identificazione geografica protetta per le nostre olive ascolane che hanno ottenuto il riconoscimento della DOP che è un riconoscimento sacrosanto e prezioso ma lo è altrettanto la IGP per le nostre industrie. Bene cari amici, ho già detto che comunicare il brand significa narrare le origini e le radici di un'azienda, raccontare quindi e saper raccontare storie di comunità e di territori e voglio dunque porre l'accento adesso su alcune questioni che riguardano la nostra terra, la nostra regione. Un territorio è stato già detto operoso e resiliente che vive però grandi difficoltà. Ce lo dicono i fatti e ce lo confermano i numeri di questa regione. Il PIL delle Marche è di circa 11 punti percentuali sotto il livello del 2007 rispetto ai circa 4 punti percentuali registrati dal resto d'Italia, quindi stiamo correndo a un terzo della velocità della media nazionale. Come se non bastasse a questa situazione strutturale si sono sommate altre patologie legate ad esempio anche al riposizionamento dell'offerta del credito, alla restrizione dei criteri di concessione dei finanziamenti bancari che continua a produrre una selezione darwiniana, mi viene da dire, della specie imprenditoriale che a sua volta non è esente da critiche e che è chiamata comunque ad evolversi verso una maggiore cultura finanziaria. E se le marche arrancano il sud della regione fa registrare pericolosi picchi di criticità. Nel Piceno dove l'economia è trainata da un manipolo di imprese virtuose e nel fermano dove continua senza freni l'arretramento della filiera calzaturiera. Basti pensare che solo nei primi sei mesi del 2019 l'export di calzature si è contratto ulteriormente dell'11% rispetto ad un incremento medio nazionale del 6%. Per questo voglio lanciare un appello al Presidente Luca Ceriscioli, laddove il riconoscimento come area di crisi industriale complessa del distretto calzaturiero è frutto della lungimiranza della regione Marche e consentitemi anche dell'attivismo di Confindustria. E questa è un'opportunità unica, su questo siamo sicuramente tutti d'accordo. Non vogliamo e non possiamo perdere questo treno. Qualche ora fa, Presidente, lo ricordavamo, si è chiusa la call di Invitalia per la raccolta delle manifestazioni di interesse ad investire. Adesso il Ministero dello Sviluppo Economico e la regione Marche facciano il possibile affinché le imprese in tempi brevi, brevissimi, abbiano certezza delle risorse finanziarie che siano adeguate e vengano quindi create quanto prima le misure efficaci per contrastare la crisi, per finanziare gli investimenti, in ultima istanza come io ripeto sempre, per creare lavoro. Ma se se affermo siamo all'inizio di un percorso di rilancio importantissimo e su cui noi contiamo, nel Piceno è necessario inaugurare una fase 2. Infatti, dopo la sottoscrizione dell'accordo di programma Tronto Vibrata e dopo aver ottenuto incoraggianti, consentitemelo di dire, incoraggianti risultati in termini di nuovi investimenti e di nuovi occupati, è indispensabile insistere per sostenere la crescita, per non disperdere il prezioso lavoro svolto fin qui. A questo proposito consentitemi di ringraziare la Vice Presidente della Regione, Anna Casini, che si è spesa in prima persona con tenacia su questi temi e che ha centrato insieme a tutti noi importanti obiettivi. Presidente Ceriscioli, Vice Presidente Casini, Confindustria vi chiede quindi di unirci ancora una volta per chiedere al Mise la proroga dell'accordo di programma del Piceno in scadenza al 31-12-2020, per proseguire l'azione di rinascita del territorio, per realizzare importanti opere infrastrutturali, per finanziare altri progetti imprenditoriali che contiamo possano essere presentati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. E anche questa volta ci faremo promotori di un'ulteriore raccolta informale di idee, proposte e investimenti in modo che quando andremo a parlare al Mise andremo come sempre con fatti concreti e con idee molto chiare. Chiudo su questo tema con un'altra sfida che unisce Fermo e il Piceno, un'altra battaglia che ci vede gli uni accanto agli altri. A noi piace osare, piace sognare e poi a volte i sogni si realizzano. E allora insieme al Presidente Cantalamessa, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, tempo fa, in tempi non sospetti, anche qui col sorriso di alcuni, abbiamo lanciato una proposta che oggi ribadisco e che oggi, Presidente, condividiamo con questa bella platea. Il riconoscimento per questo territorio che ha due aree di crisi complesse, che ha un sisma di cui ancora, come dire, non vediamo la ripartenza, il riconoscimento per questa zona di zona economica speciale. Che cos'è la zona economica speciale in un minuto? È uno strumento straordinario che prevede, pensato per il mezzogiorno, e qui lo sforzo enorme che la Regione Marche insieme a noi potrà tentare di fare, quindi far riconoscere e poter utilizzare questo strumento anche in questo territorio, che prevede un potente pacchetto agevolativo, una legislazione economica e fiscale in deroga, dotata peraltro di importantissimi meccanismi anti-burocrazia. Quindi un qualcosa che costituirebbe davvero un turbo per l'economia di questo territorio. È una candidatura ambiziosa, ma oggi la presentiamo e ci auguriamo che con il supporto politico del nuovo governo e della nostra Regione anche questo obiettivo possa raggiungersi. Concludo. L'Italia, le Marche, le nostre città, i nostri borghi hanno, consentitemi la metafora qui da San Benedetto del Tronto, la Riviera delle Palme, parliamo di mare, e quindi le nostre città, i nostri borghi hanno necessità di rimettersi in viaggio, di abbandonare i porti della rassegnazione, di ripartire verso nuovi orizzonti, nuovi orizzonti di sviluppo, anche seguendo, come ho detto, rotte inesplorate, ma al tempo stesso indispensabili e delle quali probabilmente alcune di queste, già oggi pomeriggio, ne intuiremo le rotte le destinazioni. Abbiamo bisogno in sostanza davvero di un, io ho utilizzato spesso questa espressione, di un nuovo rinascimento italiano, un rinascimento culturale, economico e sociale, ce lo impone la nostra storia, la storia di questo territorio, ce lo chiedono i giovani e ringrazio i giovani qui presenti e i docenti che li hanno voluti accompagnare qui e sono davvero per noi una priorità assoluta e quindi ce lo chiedono i nostri giovani e ce lo ricordano ogni sera a casa i nostri figli. Ce la possiamo fare, siamo ottimisti, abbiamo sempre avuto questa caratteristica di guardare avanti con fiducia e ce la dobbiamo fare. Servono però appunto più fiducia, Presidente, un maggior senso di responsabilità che significa in questo caso salire tutti sulla stessa barca, soffiare tutti sulle stesse vele, liberarsi delle vecchie e pesanti zavorre che ci hanno impedito finora di navigare. E caro Vincenzo, caro Presidente, sappiamo, ce l'hanno detto tante volte, che non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, ma le nostre imprese sanno dove andare e sono pronte a salpare. Sono pronte a salpare con l'ottimismo della volontà, con il coraggio della determinazione, con la speranza nel futuro. Speranza, coraggio e ottimismo che accompagnano ogni giorno il nostro essere imprenditrici ed imprenditori, di essere ogni giorno donne e uomini di questo territorio, marinai di questo grande Paese. E quindi viva Confindustria e viva l'Italia!